Viva l'Italia! Viva Fratelli d'Italia! Viva il centro-destra! In Italia non si fanno figli perché lo Stato italiano invece di mettere i soldi sulla famiglia spende miliardi di euro per l'immigrazione incontrollata. E le utenze che dovrebbero essere quelle siciliano gli insetti non ha ritenuto di studiare una strada di centro-destra. Um Antworten auf all diese Fragen zu finden, begebe ich mich auf eine sehr persönliche Reise. Was ist los in meinem Italien? Was ist los in Italien von Giorgia Meloni?